gentili telespettatori buona giornata matteo renzi e attapirato no in effetti il tapiro gliel'hanno già consegnato per i problemucci che ha con la sua ex fondazione open e con le indagini della procura di firenze e lui ha diversi anche altri problemi nella maggioranza prima di tutto perché il suo piano macchiavellico non è riuscito si è arenato adesso lui dice basta con le liti o le elezioni arriveranno davvero ma perché matteo renzi fa questa minaccia al governo vuole andare veramente alle elezioni o no o è un blef matteo renzi ha fatto nascere il governo attuale 5 stelle pd perché lo ha fatto nascere lui aveva già stabilito tutto lo faccio nascere io faccio l'ascissione tanto ho capito che non riesco a diventare di nuovo segretario del pd voglio essere di nuovo presidente del consiglio faccio l'ascissione faccio come macroni in francia svuoto il pd e porto i voti nel mio nuovo partito porto anche senatori e parlamentari in modo che ho senatori in grado di poter far cadere il governo quindi divento un attore principale del governo diventando un attore principale del governo posso minacciare e far cadere il governo devo solo aspettare la finanziaria riuscire ad avere più del 10 per cento nei sondaggi vuol dire che se ho il 10 per cento il pd è diventato il 9 al 9 per cento è sceso quindi divento il primo partito del centro sinistra e mi candido alle elezioni facendo cadere prima il governo sulla scusa della manovra finanziaria che non è possibile fare questo e quell'altro faccio cadere il governo dicendo che lo faccio per il bene degli italiani perché lui vuole il bene degli italiani e così faccio cadere il governo e poi mi presento come candidato premier per il centro sinistra sfidando salvini se voi vi ricordate aveva già sfidato salvini in televisione perché lui si era già portato avanti no per far vedere agli italiani che la vera sfida era tra lui e salvini gli italiani non hanno creduto non credono più in lui il partito era il partito era aveva cominciato con un 4 poi era salito al 5 è arrivato al 6 e poi sempre nei sondaggi è arretrato addirittura adesso è arrivato al 3,5 3,6 perché nonostante la gente gli italiani non si fidano di lui neanche dai sondaggi è emerso è successa anche quella storia delle indagini della procura di firenze sulla sua casa prestito ex fondazione open e quello ha fatto scappare molti possibili elettori quindi il partito ha perso qualcosa come il 40 per cento del del possibile elettorato e così zingaretti quando ha visto scendere lo ha visto scendere al 3,5 3,6 ha detto è ora di parlare con di maio cambiare la legge elettorale lasciare questa farla corretta corretta vuol dire alzare la soglia di sbarramento per far fuori renzi la soglia di sbarramento è una è una soglia non so lui la zingaretti la vorrebbe portare al 4,5 per cento vuol dire che se un partito non riesce ad arrivare al 4,5 per cento sarebbe tagliato fuori dalla prossima legislatura e poi potrebbe riproporsi per la seguente sempre se ha minimo il 5 per cento dei voti quando renzi ha visto questo ha cominciato a minacciare basta con le liti o le elezioni arriveranno davvero e sta parlando con salvini per fare con salvini una legge elettorale diversa dove lui non sia tagliato fuori quindi lui sta valutando se è il caso di far cadere il governo in questo momento e salvare il suo partito che possa entrare in parlamento la prossima legislatura seppur con il 3 4 per cento ma possa entrare piuttosto che tirare avanti che poi zingaretti cambia la legge elettorale e lui è tagliato fuori quindi lui sta cercando di capire qual è il male minore infatti si era proprio messo di traverso sulla legge finanziaria tre giorni fa dicendo togliete tutte le tasse o cade il governo poi ci ha ripensato il giorno dopo adesso di nuovo comincia a dire basta le liti o le elezioni arriveranno davvero a lui non interessano le elezioni in questo momento perché non ha i numeri per presentarsi come candidato premier del centro sinistra però ha la paura che zingaretti voglia cambiare la legge elettorale c'è da dire zingaretti bisogna capire se vuole veramente cambiare la legge elettorale o vuole far capire far intendere a renzi che lui vuol cambiare la legge elettorale in modo da indurre renzi a dare a far cadere il governo in modo che quello che vuole zingaretti far cadere il governo non possa essere additato a lui ma è stato un altro non è colpa sua perché chi fa cadere i governi comunque perde nei sondaggi avete visto salvini con il conte 1 era quasi al 40 per cento è arretrato al 31 32 per cento quindi far cadere il governo non è mai una cosa buona perché gli italiani ti danno la colpa anche se poi magari la colpa non è tua quindi renzi deve capire sta aspettando se zingaretti prendesse veramente un accordo con di maio per cambiare la legge elettorale farebbe cadere il governo quindi di zingaretti non lo fa cadere lui lo fa cadere lo fa far cadere a renzi dicendogli che va ad abbassare ad alzare la soglia di sbarramento cambiando la legge elettorale a matteo renzi dice la situazione della legge elettorale è semplice è quella del governo che è complicata matteo renzi è convinto che un accordo sulla revisione del rosatellum sia portata di mano mentre nutre molti dubbi sul stato di salute della maggioranza ma attenzione a lui interessa la legge elettorale il suo partito dello stato di salute della maggioranza lui non frega nulla ma lui racconta un'altra storia la storia che deve raccontare per portare acqua al suo molino poi lo spiega anche i suoi dice preoccupati della possibilità che alla fine possa prevalere il sistema spagnolo che danneggerebbe italia viva ecco questo è il punto questo è il punto quello dice lo vuole solo orlando per spaventare me ma in realtà sono contrari forza italia fratelli d'italia 5 stelle e leo quindi sta cercando di dire no è solo orlando ma attenzione zingaretti che vuole fartela pagare per aver detto adesso farò al pd quello che ha fatto macron ai socialisti gli porterò tu via tutti i voti senatori parlamentari quindi hai dichiarato guerra alla pd e il pd adesso cambierà la legge elettorale per farti fuori e in una futura coalizione nell'eventualità che si vada al voto o si arrivi a fine legislatura nella prossima coalizione di centro-sinistra zingaretti non vuole matteo renzi d'italia viva e questo perché ha detto che avrebbe svuotato il pd come aveva fatto macron con i socialisti quindi poi bisogna vedere se alle prossime elezioni si dimenticano fanno finta di dimenticarsi e rimettono dentro zi e matteo renzi col suo partito per cercare di sconfiggere il centro-destra che sarà molto probabile però in questo momento la posizione di zingaretti è di farla pagare a renzi in tutti i modi senza dirlo chiaramente apertamente e renzi non lo non lo ammette apertamente che ha capito qual è e diceva colpa di orlando e orlando che vuole spaventarmi no è il pd che vuole farti fuori dalle prossime elezioni non spaventarti e poi aggiunge franceschini vuole il proporzionale cioè un sistema in cui si tolgono i collegi del rosatellum mentre si manterrebbe la stessa soglia di sbarramento del 3 per cento o al massimo la si porterebbe al 4 per cento e io lo capisco ritiene che così ogni partito possa andare per conto proprio su un'ipotesi del genere renzi non ha contrarietà noi preferivamo il vero maggioritario ma senza il monocameralismo non ha senso ora la vicenza giudiziaria ha bloccato la nostra espansione ma io ritengo di avere uno zoccolo duro del 5 per cento perciò a noi va bene ma lui sa perfettamente che non ha lo zoccolo duro del 5 per cento ma nei sondaggi è sceso al 3,5 lui immagine spera perché alcuni alcuni sondaggi lo danno ancora al 5 per cento altri lo danno in calo al 3,5 quindi lui è tra il 3,5 il 5 per cento lui guarda nella forbice dei sondaggi guarda la parte più più alta lui vuole essere ottimista ma è anche comprensibile e poi dice il rosatellum non mi convince lo vuole un pezzo del pd spiega i suoi perché così e spera di fare alleanze ma si sbagliano io non voglio alleare con il partito democratico e alle sardine che ora sottraggono voti al pd converrebbe andare da soli e poi gli chiedono ma scusi ma lei sta cercando di fare un accordo con salvini sul sulla stessa legge elettorale che c'è adesso un po modificata quando salvini vuole assolutamente il maggioritario è sicuro che riuscirà e lui dice certo una soluzione del genere appare come uno schiaffo a salvini ma io credo che alla fine la la potrebbe accettare se lo mandiamo se lo mandano al voto lui berlusconi e meloni si presentano al voto ognuno per conto proprio e uniscono le loro forze dopo chi lo sa caro renzi e lui dice se si va con il litalicum dice renzi si regala salvini il 70 per cento del parlamento e chi se la sente di dare il paese in mano a lui e questo secondo l'ex premier è un altro punto a sfavore dell'attuale legge elettorale e poi aggiunge che il proporzionale è il sistema più probabile questo è un dato di fatto senza contare un altro elemento che renzi ha spiegato ai suoi con il proporzionale sarebbe più facile andare alle elezioni e dopo ci sarebbe un altissima possibilità di non eleggere un presidente della repubblica sovranista perché la lega non avrebbe il 70 per cento del parlamento poi dice che è una cavolata messa in giro da per danneggiarlo e darmi fase dargli fastidio dice renzi quella che ci sarebbe un una trattativa segreta con salvini però dicono che di maio ha la trattativa segreta con salvini i senatori grillini hanno una trattativa segreta con salvini e renzi ha una trattativa segreta con salvini tutti hanno trattative segrete con salvini a volte sono solo ipotesi giornalistiche che magari i i capi politici non hanno non ci hanno neanche pensato magari le leggono sui giornali si dicono beh sì beh potrebbe essere cioè magari sono i giornali che inducono il politico a fare quello che loro scrivono perché attenzione i politici leggono assiduamente i giornali e magari leggendo queste ipotesi poi dicono e beh però dai non avevo pensato un accordo segreto con salvini però adesso gli mando un whatsapp perché si mandano i whatsapp e gli dico capite no i giornali cercano di influenzare di indurre i politici ad attuare a muoversi in un certo modo mentre renzi dice non è una cap non è affatto detto che il governo regga siamo arrivati al punto che volevano aumentare le tasse per fare un dispetto a me pazzesco ma questo non è vero questo lui se lo vuole credere lui le tasse le hanno aumentate perché sì e poi se si tratta di stare insieme per litigare da mani a sera allora meglio il voto io non lo voglio però quello che dovevo fare l'ho fatto ho bloccato l'aumento dell'iva e i micro balzelli perciò se ci costringono siamo pronti il governo deve aver chiaro che se vuole andare avanti ha bisogno di una svolta vera se no non si sa veramente non si va non si va veramente da nessuna parte lui lo vedete che racconta tutto quello che conviene a lui realmente è tutto indirizzato al suo tornaconto personale si capisce dalle cose che dice che le sue è tutta la sua è tutta una gigantesca tattica per un tornaconto personale del suo del suo partito lui non interessa nulla né di salvini né di zingaretti né degli italiani nella legge di bilancio a lui interessa riuscire ad arrivare alle sue mete ma i renziani sono sempre più pessimistici e pessimisti perché vedono che c'è un problema ogni giorno e che ne arriva un altro il salvataggio della banca popolare di bari il governo ci deve mettere i soldi italia viva ha già fatto sapere che non sarà della partita quindi in italia viva hanno la paura comunque che se cambiano le leggi elettorali le vengono tagliati fuori e loro perdono tutti il posto di lavoro sono saltati via dal pd per andare su questa nuova su questo nuovo carrozzone di italia viva pensando che facesse il boom che salisse nei sondaggi si sono ritrovati che se si va alle elezioni adesso probabilmente perdono il lavoro al senato e al parlamento io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale e vi dove nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate e tutti i nostri video che sono su youtube li potete assolutamente commentare con chiunque voi volete condividere con chiunque grazie per avermi ascoltato e vi invito a vedere il prossimo video grazie e buona giornata arrivederci